Tante storie, culture e fragilità, se Open Solidarietà Matera chiama, cittadini e aziende rispondono. È ormai un punto di riferimento per l'intero territorio, il sodalizio che supporta famiglie e bambini in difficoltà nelle attività quotidiane, dalla consegna di generi alimentari a situazioni più impegnative. Un 2022 difficile, ma generoso, grazie a tutti coloro che sostengono l'associazione, rendendo possibili questi aiuti con flessibilità ed efficacia. Senza l'aiuto dei cittadini e delle aziende che ci sostengono, noi non potremmo esistere, perché noi non abbiamo fondi da nessuna parte. Arrivano richieste di aiuto di ogni tipo ogni giorno? Ogni giorno, esattamente, proprio così Antonella. Ogni giorno arrivano richieste di aiuto. Stamattina una signora disperata che non trova lavoro e vuole lavorare solo al mattino, perché è il pomeriggio ai bambini ed è sola e stamattina con un post pare che abbiamo risolto anche questa situazione. Ma chiaramente noi siamo un gruppo che è nato su Facebook, per cui Open Solidarietà Matera è un gruppo Facebook. Per cui quando si accendono polemiche che stiamo sempre a chiedere, ma se noi siamo nati come un gruppo Facebook, dobbiamo continuare in questa maniera. Non possiamo cambiare. Non si dicono le offerte che si ricevono, no, si dicono perché noi dobbiamo ringraziare le aziende, i supermercati, quelli che ci aiutano giornalmente. Per cui io lo devo fare ogni giorno che ricevo, devo comunicarlo ai cittadini. Pensate di aver sostituito le istituzioni in alcune situazioni? Beh, in alcuni casi sì, perché se prendiamo l'emergenza ucraina, sì, ci siamo sostituiti alle istituzioni, perché non abbiamo avuto nessun sostegno. Noi continuiamo tutt'oggi a portare aiuto alle donne ucraine che sono a Matera, sia nel cercare di aiutarle a trovare lavoro, perché noi non vogliamo fare assistenzialismo. Noi cerchiamo di sistemarle nel migliore dei modi, aiutando a trovare un alloggio, un lavoro. Nel momento che non ce la fanno, li aiutiamo anche a pagare l'affitto, però noi non facciamo assistenzialismo. Questo è lontano dai nostri pensieri, per cui quello che noi facciamo è aiutarle. E in alcuni casi sì, ci siamo sentiti abbandonati. Quali le situazioni più difficili e delicate che ricordi dell'anno appena passato? Dell'anno appena passato posso citarne diverse, tipo aiutare un padre malato, leucemico, che poi è subentrato a una malattia oncologica, per cui l'abbiamo sostenuto in tante situazioni, proprio per aiutarlo. Una situazione ultima, ritorno sull'Ucraina, di una donna ucraina, che abbiamo dovuto trovare, grazie alla Caritas, una soluzione. E insieme alla Caritas siamo riusciti a trovare anche questa soluzione. E in questo caso devo ringraziare la dottoressa Anna Maria Cammisa. Parliamo di cose belle, vediamo qui tanti regali a chi sono destinati. Allora, questi regali, grazie a un nostro benefattore, che ci ha veramente sostenuto con una bella somma, abbiamo acquistato tantissimi regali, qui ce n'è solo una parte, gli altri sono nel garage di Vito Cappuccio, e sono destinati ai bambini delle famiglie che noi assistiamo giornalmente, che non possono permettersi di comprare regali, e ai bambini della parrocchia di San Rocco. Quanto fa bene al cuore dedicarsi al prossimo tutti i giorni, davvero con tutte le energie possibili? Allora, io dico sempre, quando mi ringraziano, dico sempre che non sono loro a ringraziarvi, sono io che devo ringraziare loro, perché tutto questo mi fa stare bene con me stessa, e vedere la gente felice, dove tu porti anche un pacco di pasta, ecco il pacco di pasta famoso, mi rende felice, perché rendo felice una mamma, un papà, e anche quando mi chiamano per essere pagata una bolletta, un affitto, bene, io non giudico mai nessuno, è lontano da me il giudicare, ma sono contenta di poterli aiutare. E la risposta della città è sempre sorprendente. Sono sempre di più quelli che mi scrivono in privato per aiutare, non per chiedere, per aiutare. E questa cosa a noi di Open ci rende molto orgogliosi, perché evidentemente la gente crede in noi, e per noi questo è importante, che la gente e che il popolo materano ci sia vicino e che creda veramente in noi.